E quando partirà la melodia, con la sua musica ti porta via Il nostro gatto è come un'evasione, con cui abbandoni questa tua visione Il nostro gatto è come un'evasione, con cui abbandoni questa tua visione Il nostro gatto è come un'evasione Il passo del cazzo Il passo del cazzo Il passo del cazzo È quello che vi piace di più, cioè sono le cazzoni veloci Le abbiamo messe in ordine di velocità proprio per facilitare la vostra comprensione Il primo passo si è titolato breve storia triste È contro tutti quei cazzo musicisti del merda che fanno i cazzoni sempre amore, cuore, malascia, che bello E completamente queste cazzate Ti faccio un vocale dei 10 anni C'è stato un'evasione Breve storia triste Amore 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 ma scusate inizia Pietro che non si ricorda quindi è viva viva l'olio d'oliva lo sapete fammola a cappella viva viva calma calma il prossimo pezzo è il primo pezzo che abbiamo scritto con gli sciaccati sentito l'altro riciclo ci avevamo un fido di intercezione che è il primo batterista nostro che però è un chitarista però non c'è molto pure l'uno Maurizio la fa Simona sbagliando triciclo se sei come noi prova con triciclo brava ma con Dio vabbè tanto non le capivate gli imprevisti fanno parte della vita non è che mori e dici no aspetta non mi piace perché sono morto quello di l'altro tutto il cazzo il prossimo pezzo è contro la CIA si intitola Gino Paoli eravamo quattro all'Akbar il prossimo pezzo si intitola D.W.T.W.T.W.W.B.T.O.L no 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 voi ve lo tornovo 16 euro con il capitana o voi no l'ho regalato mi stanno usando mica l'ascoltavo mica profilati sto scherzando l'ultimo pezzo veloce l'abbiamo scritto la settimana scorsa non ci frega il cazzo non è che Pasquerozzi parla col pubblico stai insieme allora va bene c'è adesso scritto così va bene non mi interessa il saluto l'abbiamo scritto la settimana scorsa è un inedito per questa serata si intitola Satana ha un pezzo nuovo e si intitola Satana lui c'ha un titolo si inventava una parola nuova tipo ehi no ci stiamo avanti vai già la stiamo a fare state il silenzio silenzio religioso grazie a tutti 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 Allora Grazie a tutti 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 Grazie a tutti